Signori, buongiorno. Studio illegale. Fabio Volo mi è sempre piaciuto, in una trasmissione televisiva di tanti anni fa poi era fuori di testa, non sono neanche più riuscito a ritrovarla, c'è lavoro in qualche videocassetta, non mi ricordo neanche il titolo. Beh, è bravino lui, non è che sia un super film, sette e mezzo, però dice sempre fare commedie piacevoli.